5 modi davvero facilissimi, ma che assolutamente tutti devono sapere, per regolare in maniera efficace un overdrive. Ovviamente possiamo accenderlo o trovare la prima regolazione che ci piace e lasciarlo così per sempre, ma un buon overdrive in realtà può fare molte altre cose, anche quando ne avete uno con pochi controlli, come questo o come la stragrande maggioranza dei drive. Quanto vi sto per spiegare e ascolteremo in questo video vale per qualsiasi pedale overdrive, ammesso che non faccia proprio schifo. È giusto scendere a compromessi in alcune cose, ma sulla sezione overdrive e distorsore, attenzione perché lì veramente se sbagli quella. L'overdrive su cui vi farò vedere queste regolazioni è l'HRM DJ Rocket, il V2. Avevo già usato il V1 precedentemente sul canale. Da poco è uscita questa versione V2, sempre un pedale ispirato al mondo dumbbell, creato proprio avendo la possibilità di mettere le mani su un dumbbell reale, mezzo milione di dollari di ampli. E ho letto che su questa versione V2 hanno anche utilizzato pezzi vintage, quelli utilizzati da dumbbell nel suo ampli. Follie. Ma ripeto, va benissimo qualsiasi overdrive, basta che non faccia schifo. La prima regolazione è veramente un must. Quello che mi piace chiamare overdrive alla Stevie Ray Vaughan, e consiste nel regolare l'overdrive come se vi regolava il suo Tube Screamer. Livello al massimo, gain al minimo completamente a zero, mentre solo per l'equalizzazione diciamo siamo liberi di andare dove ci piace di più. È indifferente che abbiate un overdrive con due controlli di equalizzazione come questo, che ha medio basse e medio alte, oppure il classico unico controllo di tono. Diciamo che più o meno farete la stessa cosa. Il risultato è un suono molto dinamico, all'apparenza quasi, quasi clean, quanto di più simile ci sia al vero breakup di un ampli, ovvero quel momento quando il volume è così alto dell'amplificatore che suonato con forza il suono si sporca, mentre suonato piano il suono resta completamente clean. Il risultato è un po' di più simile. Il risultato è un po' di più simile. Il secondo metodo per regolare il drive è quello invece ispirato più al classic rock, in particolare al suono di Jimmy Page, che personalmente per me è il papà del suono classic rock. Vi è capitato mai di sentire le tracce isolate del suono di Jimmy Page? Nonostante la sua figura sia sempre associata a quella del suono particolarmente distorto e rock, in realtà le chitarre di Jimmy Page non sono mai eccessivamente distorte. Anzi, nel suo suono sia ritmico che solista, la nota è sempre molto chiara, la distorsione è presente da sustain, ma non è mai invadente, anzi ci sono molte medie e medio alte. Per ottenere un suono del genere con il nostro drive, partendo da un suono clean dell'ampli, riportiamo il livello dal massimo a un volume diciamo medio, normale, il gain che era zero lo riportiamo su, ma senza superare il 25-30% del gain totale che il pedale ha. Dobbiamo prediligere una voce mediosa, medio alta del pedale. Sull'HRM in questo caso pompo il top end, che sarebbe appunto la medio alte. non voglio assolutamente sentire nulla di ingolfato, non voglio sentire, quando vado sulle basse, anche per suonare dei riff, che il suono si gonfia eccessivamente. Voglio quella percussività e quel suono quasi clean, ma che in realtà è forte, cazzuto, distorto. Grazie a tutti. Se non abbiamo interesse in queste sonalità un po' più percussive, meno distorte, ma di impatto, possiamo regolare l'overdrive in maniera un po' più moderna, secondo un approccio completamente opposto a quello che abbiamo seguito per lo scorso suono. Il gain questa volta sale, magari arrivando a metà, e a volte anche superandola, dipende da quanto gain il vostro overdrive ha, e andiamo a prediligere un po' le medie e medio basse. Per come funziona il nostro orecchio e il nostro cervello, siamo abituati a percepire come più gradevoli i suoni carichi di basse, pieni e corposi. In realtà, quando si esagera con questa equalizzazione, poi il suono della chitarra, soprattutto inserito in un contesto musicale con altri strumenti, va a cozzare con la gran cassa, il basso, a volte anche con le tastiere. Quindi dosiamo l'equalizzazione muovendoci sulle basse. Quando sentiamo che cambia, quando sentiamo che effettivamente il suono si sta un po' ingrossando, Fermiamoci lì. Grazie a tutti. Se prendiamo un po' di quello che c'era nel suono classic rock e nel suono rock un po' più moderno, creiamo una delle regolazioni che più mi piace utilizzare per tutta la parte lead, per tutta la parte degli assoli. Per quanto la regolazione precedente era già in grado di fornirci un buon suono lead, diciamo già utilizzabile, è possibile anche fare di meglio se vogliamo utilizzare un pedale proprio in maniera specifica per una solo, comunque per parti soliste. In questo caso il level va spinto un po' più in avanti. Il passaggio da clean a overdrive ci fa perdere, effettivamente all'interno del mix, una parte di volume importante. Quindi non fate mai l'errore di regolare il suono clean allo stesso identico volume del suono overdrive. Il secondo deve essere sempre un po' più alto di volume. Il gain fa anche un piccolo step in avanti, possiamo arrivare all'80-90% del totale del gain che un pedale può darci. Andiamo a ripescare in parte l'equalizzazione che avevamo utilizzato nel secondo metodo, quello classic rock, perché il suono lead è generalmente sempre più incentrato sul registro alto. do un po' di frequenze alte al pedale, levo leggermente le medio-basse e con questo gain alto e il volume un po' più su ho già un suono lead praticamente pass partù che posso usare in qualsiasi contesto. Il secondo è un po' più alto di volume. E andiamo all'ultimo metodo che probabilmente in realtà è anche il più importante tra tutti Ovvero quello di utilizzare il nostro overdrive all'interno di una catena con almeno un altro overdrive per creare un game stage Esistono pedali più complessi con più circuiti all'interno dove è possibile creare il game staging all'interno dello stesso pedale Quello che comunemente conosciamo come dual overdrive Ma in generale la cosa più comune da fare se non si dispone di un dual overdrive è quello di avere due overdrive separati che lavorano insieme Non ci sono regole precise e obbligatorie da seguire ma delle cose importanti da conoscere La prima è che a seconda dell'ordine con cui deciderete di piazzare i pedali prima uno o prima l'altro Il vostro suono finale sarà condizionato di più dal pedale che si trova più lontano dalla chitarra in catena Se entro in questo primo overdrive con la chitarra ma esco poi da questo il mio suono sarà un'unione tra i due ma somiglierà di più a questo di qua Se invece li scambio ovviamente la voce del nostro suono sarà più influenzata da quest'altro pedale È inoltre buona norma regolarli in maniera che il game sia crescente Impostando il pedale con più game successivamente a quello con meno game O comunque se i due pedali hanno game sovrapponibili quindi magari hanno strutture di game simili nessuno dei due arriva a game stellari È bene regolare il pedale che sta prima sempre con il game sensibilmente più basso rispetto al secondo E in questo modo abbiamo aggiunto tre stati di game al nostro suono Il più basso, il medio e l'unione dei due Il pedale con più gente Qui tra di voi ha più esperienza sicuramente magari ha già sentito parlare di questo tipo di regolazioni, ma sono veramente importanti per sfruttare veramente appieno il nostro pedal overdrive nei diversi contesti in cui ci può capitare di suonare. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se conoscevate queste tecniche o se ne avete di altre, magari mettete l'overdrive nel sendereturno dell'amplificatore. Ricordatevi di iscrivervi al canale e lasciare un like se questi video vi piacciono e noi ci vediamo in un prossimo contenuto. Ciao a tutti! Ciao a tutti!